in commercio. Mettiamoli in diretta con una webcam e proviamo appunto a condivide tra di noi le immagini, piuttosto che averne uno ciascuno, quindi spettere il doppio lo stesso, ne compriamo una e le buttiamo in due. E così è nata l'idea di SkyTar, che si è creato il sito web, c'è la casa mia a Catania, io sono di Catania in italiano, ho messo in terra alta diciamo il primo telescopio, da 25 cm di diametro, ho comprato da Scamina ovviamente, però tanto soddisfazione queste qua. Ho realizzato da una piccola situazione.